Gianmarco Valenza, ex concorrente del reality Temptation Island ed ex fidanzato di Aurora Betti, oggi sarà il protagonista di questo nuovo articolo di oggi. Come ben tutti sapete, la loro storia d'amore non è finita nel migliore dei modi, in quanto lui dopo la terza puntata ha chiesto di avere un confronto con lei visto che si era baciata con il tentatore Giorgio Neme. Dopo questo confronto, Gianmarco abbandona il programma da solo mentre Aurora esce felicemente fidanzata con il tentatore Giorgio. Però, girando sui social network abbiamo visto che la storia tra i due è già finita. Gianmarco è ritornato a Latina a fare la sua vita di sempre, a stare con la sua adorata famiglia e soprattutto ad uscire con i suoi migliori amici. In questi giorni è stato a Napoli insieme agli altri tentatori per passare qualche giorno di relax. Ieri, Gianmarco è passato nella sua pagina ufficiale di Facebook, ha pubblicato una foto simpatica e ha scritto, il segreto è saper ridere di se stessi e spero di poter riuscire a rispondere a tutti voi che dimostrare affetto con semplici gesti e bellissime parole. Vi voglio bene un ciaone a tutti.